Alessio Scarcina, sindaco Bebi dell'Istituto Pirantello, assieme ai compagni stamattina per ripulire Largo Matteotti, iniziate in un progetto di recupero e riciclo. Un impegno scolastico che va rispetto dell'ambiente? Sì, certo, perché anche ieri abbiamo fatto una lezione del riciclo, che parlavo del riciclo, con i ragazzi del servizio civile. Qui stiamo ripulendo Piazza Matteotti per la settimana europea del riciclo e cerchiamo di comunicare agli altri di fare meno rifiuti e di mantenere sempre l'ambiente pulito. Un appello ai tuoi coetani? Un appello che dobbiamo sempre riciclare ogni cosa che consumiamo. Grazie.